Ehi sono Pazzox e ben ritrovati in questo nuovissimo video, oggi il video su come sbloccare maggiore mancake e tutto il suo intero set grazie alle sfide di Fall Guys, ma prima di vedere insieme su come sbloccare tutto questo set ricordate inserisci il codice Pazzox all'interno dello shop di Fortnite se vuoi supportare questo creatore, il tuo supporto garantirà tantissimi nuovi video e tantissime nuove storie ed eccoci qua ragazzi sia io che il signor Alex abbiamo farmato parecchio su Fall Guys ragazzi e dalle 2 dell'orario di pranzo oggi fino a le 8 adesso sono le 8 precise 6 ore su Fall Guys perché per sbloccare questo signore il Madomà l'ho notato adesso ma sembra che c'ha un nasone lunghissimo prima di vedere il suo intero set ragazzi per sbloccare questa skin e tutto il suo set bisognerà fare almeno 100 round su Fall Guys ma attenzione bisognerà completare ogni round fino almeno al prossimo caricamento del prossimo round perché se si quitta dalla partita prima che carichi un altro round purtroppo essa non sarà conteggiata come inventate magheggi strani dovete giocare per forza si bisogna giocare ragazzi allora per prima cosa vediamo imburrato è pronto a buttarsi in padella flapjack ok come scocciola se tu lo muovi sembra sembra quando il tipico amico di classe che c'ha il muccio al naso poi abbiamo il backpack che è il piastratore se ti tarpano le ali fatti un dessert che c'ha anche la boccetta lì di scudo si poi è proprio la piastra per fare tipo i waffles c'ha anche un manganello c'ha abbiamo il piccone che è carino piccone e carino forse lo metto su gianesini grasso questo io e stai per ricevere una forchettata dice ok le altre cose del set che sono lo sticker e semplicemente lo spray flapjack oh ecco qua che siamo proprio al butter barn posso dire allora il suono è proprio identico al suo piccone del season pass uguale uguale scocciola io non riesco a vedere sto muccio al naso che c'hai qua quindi ragazzi mi raccomando per sbloccare tutto questo intero set gratuito bisognerà arrivare a 100 round su fall guys mi raccomando per un totale se lo fate di fila purtroppo 6 ore di tempo perché noi dalle 2 siamo partiti e quindi ma facciamo anche 5 che un'oretta sono caduti i server è vero è vero ragazzi abbiamo perso un'ora e 10 minuti perché i server dalle 6.05 fino alle 7.10 sono stati off e quindi abbiamo perso veramente parecchio tempo e per questo il video è uscito un pochino però che dire fateci sapere qua sotto nei commenti se siete contenti che questa skin sia gratuita e se Alex che ti begga poi chissà se questa skin probabilmente chi se la perderà arriverà sicuramente nello shop per 1200 vbac probabilmente stai gocciolando un botto vedo che dire ragazzi spero che questo piccolo video vi sia piaciuto e soprattutto del del ah non ce la facciamo più se abbiamo gioco da fall guys troppo tempo veramente troppe ore ci vediamo sicuramente con la prossima storia in questo sabato con dolcissimo e carnissimo hehehe ciao 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 Grazie a tutti.